È stata una notte di intenso lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro che sono dovuti intervenire in territorio di Dorgali per soccorrere tre turisti inglesi che si sono trovati in difficoltà mentre stavano scalando la parete denominata Compagni di Viaggio in località Monte Odeu. Un salvataggio perfettamente riuscito e concluso nel cuore della notte. L'allerta è scattata attorno a mezzanotte. I tre turisti britannici, un uomo di 49 anni e due donne di 32 e 31 anni, erano intenti a scalare il pendio quando si sono trovati in difficoltà anche a causa dell'attrezzatura inadeguata, rimanendo sospesi nel vuoto e con l'oscurità che impediva loro di procedere in qualsiasi direzione. A Monte Odeu sono giunti i vigili del fuoco del SAF, il nucleo speleoalpino fluviale, che sono stati allertati dal 118 che aveva raccolto la richiesta di aiuto degli escursionisti. Gli specialisti del SAF hanno preparato una manovra di recupero verticale per raggiungere i tre londinesi che sono stati messi in sicurezza attorno alle 4 del mattino. L'operazione di salvataggio è terminata alle 5 con i tre turisti che sono arrivati al campo base allestito dai vigili del fuoco. Qui sono stati sottoposti a controlli sanitari e riaccompagnati nel camping di Calagonone in cui erano alloggiati. Un'operazione perfettamente riuscita, quella degli specialisti del SAF che testimonia l'alto grado di addestramento raggiunto. Quanto ai tre free climbers inglesi, un'avventura lieto fine da raccontare agli amici. Per i vigili del fuoco un'altra operazione di recupero riuscita. Resta il fatto che ancora una volta le squadre di soccorso sono dovute intervenire nel sopramonte per togliere dagli impici arrampicatori fai-da-te che si avventurano in imprese senza avere un'adeguata preparazione o l'attrezzatura adatta. Un problema annoso su cui le autorità competenti dovrebbero iniziare a intervenire, magari sanzionando chi per imprudenza o inconscienza si mette nei guai. Un deterrente potrebbe essere quello di far pagare i costi degli interventi delle squadre di recupero in caso di palese violazione delle minime regole di sicurezza.